Guarda Barbara, guarda Barbara Ma come ti parebbero a te se vai a Barbara d'Ursa? Ma veramente ti dicono così gli haters che non ce l'hai Ma veramente ti dicono così ma si vede che tu ce l'hai Questa malattia ma si vede Ma come fanno a dire che non è vero ma si vede io l'ho capita subito appena ti ho vista ma se l'ho capita io Sassà come fai quando ti si blocca il rene? No quando così quando qua praticamente non è che mi si blocca Perché io devo fare così faccio così è chiaro che faccio così no e poi mi si tira tutto qua e poi dico che mi si è bloccato il rene E poi come fai il replay? Il replay lo faccio tre volte faccio tre volte così però oh porco tu mi fa male Mi fa male cazzo fa male Ma io ho una parola merda io e gli dicevo Fai così? No mi parola così così Ma non è la tosse? No! Non è la tosse? No non è la tosse? No io ho la tosse Porco diia da madonna io ho la tosse veramente Ma tu c'hai il tic? Ma tu c'hai il tic? Ah porco diia da madonna il film un amico di mio figlio c'hai il tic? Sì Ma che fa veramente come me? No per tutto Matteo ma che c'è ma turretti i tic sono il tic pure e il turretto tutto è turrette Oh signore Oh signore Non ciò pare di non dare i pugni al tavolo perché si è risentito della categoria Ah tu l'hai detto comunque è piacere il prato della famiglia Ma così fai veramente? Ma ti fa dolce? No Ma lo fa per le picchie? Ogni tanto quando penso sto tanto Per tu dia? Ha down! Ma si down è l'oltre I capelli Ma veramente per così perché Ma scusa che si Ma io una volta faccio così Laschiamo No io lasco Per poi E poi l'hai fatto più di vedere Com'è? Perché poi l'hai fatto più? Che cosa? Perché l'hai fatto altri però Perché l'ho lavato di piso Ho fatto dati cazzo di pò Ho detto le parolacce Ho fatto... Ma io c'erano ogni tanto doveva... Faccio così Ma come fai? A quanto dia madonna Ma cosa ti dici? No Ma vai No Non fai così ma Come se ti pensi da qualcosa la cona Ah no Io per esempio facevo più piccolo Sai come facevo sentito il naso? Zitti Zitti Ma che cazzo di amici già Mio figlio Non soffiamo Poi non è passato Tutti handicappati Non ci ho pensato più ma è passato Tutti handicappati Tutti turretti ci siamo Tutti turretti ci siamo Ma l'avete visto che un po' di tic ce l'abbiamo tutti? Ci siamo una Giulianova Steven si chiama Zitti 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 Siamo andati allo stanzino Allo stanzino Io la Madonna di Cristo Dell'ospedale Io la Madonna di Cristo Dell'ospedale Ma non senza mangiare Lo so prima E poi le facevo un'altra volta Stanzio di ospedale che è? Quando prendevi le insulini come facevi? Le insuline? Per luce Quelli Ah le insulini? Che facevi? Come facevi? Uno Ah eh Lo prende e faceva uno Due E poi le rimettevo No uno Due Replay C'era ancora Scoprava Che mi riuscita via E io facevi Replay Comunque il ciuffo Lo vedi alzato? Si Che ci sta un pezzetto Si lo vediamo Più A porco Dio L'Amadora di Cristo Tanto Ma veramente Eppure così Ti dà vuoi far rapire Le mamma? E ti dimenticino Guardi che grave Che cosa Mi ha portato la mania Da No ma fatti Quando c'era la mamma No ma come era Beh c'era un po' la molla Mia madre Una giocamata Se vedi le foto Ora sei stranello Capito? Perché lei Si pensa che io non la vedo Praticamente Se me Si è messo l'anello così E col dito Stava tutto ammollato così Quindi si vedeva o non si vedeva Quindi il dito Cioè Lei non si è reso conto Che io ho visto Porco Dio la Madonna di Cristo Che questo dito Lei ce l'aveva Fumato Fumato Invece lei Lo voleva coprire E poi voleva fare così Come un anello E qua c'era tutto Cioè Sono stata mezza giornata E c'era E c'era Lo stress Il peso Lo stress Il peso Ma io l'ho detto Ma tu che cazzo fai? Stai a registrare? Ti metto sui social Ma dai veramente C'ho più richiesta E amicizia Oddio è matta Ma a me Chiude Vuoi che sta con te Poco Dio Che vero Sembra quello Sembra Quello la Solo per Codow Codow